Buonasera a tutti e bentornati. Questa sera continuiamo il nostro percorso, il nostro viaggio alla scoperta dei luoghi che saranno aperti in occasione delle giornate d'autunno del FAI del 12 e 13 ottobre prossimi, quindi tra qualche giorno. Alcuni luoghi saranno aperti in via straordinaria perché non visitabili durante l'anno, anche perché proprietà private e quindi approfittiamone di questo weekend, sabato e domenica. Questa sera andremo a vedere i luoghi aperti ad Alessante e provincia e ad Asti e provincia. Cominciando da sinistra, vedete qui, Castello dei Paleologi e Carceri Napoleoniche e Museo Archeo ad Acquiterme. Acquiterme è a sud di Alessandria, come dice la parola, la stessa terme, dove nella piazzetta c'è la bollente, la piazzetta della bollente, quella di Icola dove sgorga acqua sul furia, se non ricordo male si dice così, circa 75 gradi, quell'acqua che si usa per le terme. Acquiterme, no? Comunque, quindi se andate ad Acquiterme, passate dalla piazza, ma più avanti parlerò di Acquiterme perché non c'è solo quello da dire, c'è tantissimo altro, ma ce ne occuperemo più avanti. Poi il secondo luogo, le trunere, dovrebbe essere trunere, secondo me trunere, le case di terra della zona della Fraschetta. La zona della Fraschetta individuabile, è la zona est di Alessandria, la zona di San Giulio Vecchio, San Giulio Nuovo, Spinetta Marengo, appena usciti da Alessandria, dove c'è quella di Napoleone, ho pubblicato un video, andato a vederlo, è carino. E poi c'è anche il Castel Ceriolo. Le trunere sono diversi significati, però secondo me, ripeto, quello più giusto è il vialetto dovrebbe essere quei mattoni in terra cruda, quindi case costruite in mattoni di terra cruda. Poi c'è lo stadio comunale Giuseppe Moccagatta, dirigente sportivo, politico, stato sindaco di Alessandria, dirigente ovviamente di Alessandria Carcio, 1912, uno stadio dove ha giocato anche il Torino, il grande Torino, per una partita di Europa League, se non ricordo male, ma anche la Juventus donne ha fatto qualche partita, quindi è stata Moccagatta titolata, dove ha giocato Gianni Rivera, dall'Alessandria poi è passato a Milan. Gianni Rivera, poi lo vedremo, lui abitava in linea d'aria a 50 metri dallo stadio. Ho fatto la foto della sua casa natale, eccetera, comunque ne parleremo più avanti quando parleremo di grandi sportivi. E poi i cosiddetti grigi, sottolineiamolo, i cosiddetti grigi. Una volta ho visto una partita quando c'era il grande Fabio Artico, quindi parliamo di qualche anno fa, e dove nel 2021, dopo ben 46 anni, era riuscito a tornare in Serie B, perché inizialmente, quando è nato, nel 1912, è militato in Serie A, in Serie B, poi un po' si è persa, ha fatto un anno in Serie B, però adesso è tornato un po' indietro. Però comunque siamo sempre speranzosi. Io non tifo il calcio, però Alessandria, insomma, se vince mi fa piacere. Poi c'è Castello di Bergamasco e Palazzo Marchionale, appunto, a Bergamasco, che è nella zona a metà strada fra Alessandria e Dasti. Poi qui a sinistra, partendo sempre da sinistra, è chiesa di San Pietro Apostolo a Casale Monferrato, quindi siamo a ovest di Alessandria, poi passano circa 20 km da Alessandria. C'è tantissimo da vedere a Casale, in tutti gli angoli del paesino, che poi un paesino proprio non è, un grandissimo paese, una città quasi, almeno città di Casale potrebbe chiamarsi, perché dipende dal numero di abitanti. Comunque, che sia paese, che sia città, è prima capitale del Monferrato, quindi ancora prima di Alessandria, eccetera, racconteremo la storia di Casale, prima capitale del Monferrato, sottonomina, nominato capitale del Monferrato dal Marchesato, quindi dal Marchese di Saluzzo, per motivi di guerra, perché allora facevano solo le guerre, quindi ce ne occuperemo più avanti. Molto spesso, se entrate a Casale, in molti angoli all'entrata di Casale, trovate questa scritta, prima capitale del Monferrato. Abbiamo capito. Comunque. Poi c'è Società Operaia di Mutuo Soccorso a Castellazzo Bormitar, siamo a sud di Alessandria, andando sempre verso la splendida Liguria, come Acquitermia, no? Andando sempre verso la splendida Liguria, dove i Piemontesi, i Lombardi vanno al mare, e il Museo Aristoforo Colombo, bello, Cuccaro, Cuccaro Monferrato, invece a ovest di Alessandria, quindi andando verso nord, quindi salendo verso nord, quindi San Salvatore Monferrato, poi c'è Cuccaro, Lu Monferrato, dove è stata girata anche una parte dei quattro ristoranti, no? Quello con Borghese, Alessandro Borghese, c'era un ristorante e uno dei quattro partecipanti era di Lu Monferrato, quindi siamo lì vicino, Lu Cuccaro, vicino a Vignale, Vignale Monferrato, ne parleremo, paesino stupendo, tantissimo da dire, dove ha una casa, sì, una casa, diciamo così, Giovanni, di Aldo Giovanni e Giacomo, che ha anche Vigneti, insomma, l'ho visto per privacy, non dico dov'è perché ci mancherebbe, so che molti l'hanno visto a Casale Monferrato, ecco, perché poco distante, che si allenava a correre a piedi, quindi qualche uno l'ha visto, ho visto solo il posto dove lui, insomma, ha l'orto, insomma, grande orto, eccetera, però va bene, è un bel posto, ha preso una bella terra, Vignale è una gran bella terra di vini, eh, di vini. E poi, che bello, Cappella Bicherasio a Fubine, ho fatto diversi video su Fubine, andate a guardarvi, li sono molto, molto interessanti, c'è anche un politico che è nato a Fubine, che ha fatto molto di sinistra, ha fatto molto nella politica, sono video molto interessanti, Bicherasio. Bicherasio, quello che mi mancava era la Cappella, quindi sarò lì sabato o domenica, io andrò, perché è un pezzo che mi manca, uno dei due, l'altro andremo a vederlo dopo, è uno dei due pezzi che mi mancano, quindi li vedrò tutti e due, costi, quel che costi. Cappella Bicherasio che è collegato alla Fiat. Attenzione, non è Agnelli? Sni, andate a guardarvi i video che io vi spiego tutto per quanto riguarda Bicherasio, Agnelli e compagnia bella è la Fiat, ok? Quindi andiamo a vedere i prossimi luoghi visitabili e sempre nel prossimo, vi ricordo, weekend del 12 del 13 di ottobre. Ecco, gli Infernot di Fubine, quindi siamo sempre a Fubine, ce ne sono diversi, tanti, adesso non ricordo un numero esatto, sono 30 qualcosa se non ricordo male, vado a memoria, quindi cosa sono gli Infernot? Ho spiegato sempre nei video che ho pubblicato, che cosa sono, cosa servono, eccetera, eccetera. Andate a guardarvi i video, vi ripeto, sono interessanti, io uno di questi devo andare a visitarlo, perché è uno dei due pezzi insieme alla cappella che mi mancano. Poi l'erma, siamo a sud di, sempre sud di Alessandria, quindi andando verso la splendida Liguria, l'erma di Trenta, Drenta, scusate, la corte del castello e il ricetto, quindi la parte interna, no? Un po' come a Candela, in provincia di Biella, il ricetto, quella parte antica, medievale, no? Conservata, come tanti anni fa, eccetera. Castello Doria di Montaldeo, questo qui io l'ho visitato, con sempre giornate fai, se non ricordo male, era marzo, quindi giornate fai di primavera, o quelle di autunno scorso, 2023. Ho pubblicato un video per quanto riguarda il castello di Montaldeo, comunque, abbastanza interessante. Internamente, quando ho fatto io, la visita non era visitabile, se non la parte esterna, la parte del giardino, interessantissima, e dove ci sono le botti, no? Dove si faceva il vino, eccetera. Comunque, cliccate sopra e, come ho spiegato nel video scorso, vedrete, vi informano, insomma, di tutto quello che si può fare all'interno del castello di Montaldeo. Poi c'è la grangia di Probietto, chiesa di San Nicola, a Morano sul Po. Siamo a ovest di Alessandria, andando verso Trino, quindi siamo nel Vercellese. La grangia, vi ho pubblicato un video, la grangia di Montarolo, andata a Guadalvo, l'interessante. La grangia, in dialetto, in pratica, i granai sono le moderne aziende agricole, che tutte facevano capo a Lucedio, ne parleremo, perché Lucedio io l'ho visitato, ed è bellissimo. Poi, vedete, ripetiamo la grangia, questa è sempre di proprietaria agricola, e poi andiamo a Ovada, città millenaria, quindi siamo a sud, Ovada, l'ultimo paese del Piemonte, perché poi dopo Ovada c'è Rossiglione, poi c'è Masone, entriamo già in Liguria, Contrade, Chiese, Palazzi Gentilizi, quindi un bel viaggio all'interno del paese, Castello di Pasturana, quindi siamo sempre lì in zona, come Castello Medievale a San Cristoforo, sempre zona a sud di Alessandria, Fraovada, Acqui, quindi quella terra lì, diciamo, ecco. Andiamo a vedere i prossimi luoghi che possiamo visitare in un weekend, sono tantissimi, però noi ce li facciamo bastare. La figura è di Ernesto Panza, Fra San Salvatore, Monferrato e Biumo, che prende il nome dal luogo della villa che aveva acquistato, siamo nel Vare Sotto, però lui, Ernesto Panza è la via principale di San Salvatore, quindi una figura di spicco importantissima per San Salvatore, San Salvatore è un operato, poi la figura di Ernesto Panza è San Salvatore, quindi anche la villa, quindi abbiamo diversi luoghi da vedere, San Pietro, splendori barocchi e antichi documenti, Silvano d'Orba. Silvano d'Orba, siamo a zona Gavi, un po' a sud, quindi quella zona lì, andando verso, dopo Serravalle, scrivi, dove c'è l'outlet, quindi siamo quella zona lì, ecco, siamo a sud-ovest di Alessandria. Passeggiata storica da San Pietro all'Etichè, dovrebbe leggersi così, sempre a Silvano d'Orba. Andiamo a vedere Torre Medievale di Terzo, subito dopo Acquiterme, c'è Acquiterme, Bistagno, quindi stiamo andando verso la Liguria, è Terzo, in particolare anche il nome, Terzo. Caserva della Compagnia dei Carabinieri di Tortona, bellissima, se posso, se potrò andrò, ecco, in qualche modo. Tortona, quindi siamo a ovest di pochi passi, da Alessandria, a ovest di Alessandria, Museo del Mare Ammiraglio Carlo Mirabello, Mirabello che c'è anche un nome, appena fuori San Salvatore, c'è Mirabello, Zano, Bonferrato, Mirabello, Mira il Bello, però era solo una curiosità, però vedete, Ammiraglio Carlo Mirabello a Tortona, perché Ivi era nato, quindi un po' scoprire cosa fece questo ammiraglio con il museo, chissà quante cose belle ci saranno. Palazzo Guidobono, sempre a Tortona, un paese interessantissimo, di solito è anche tappa, io ogni tanto vado così a memoria, di solito è anche tappa del Giro d'Italia. E finiamo con vedere l'opera di Luigi Vacca presso Palazzo Pellizzari a Valenza, Valenza la città del loro, siamo a circa 12-13 km da Alessandria Nord, quindi casa Loviso Logavelli a Fontanile, sempre zona Asti, siamo a sud di Asti, se non ricordo male, Fontanile stesso, quindi Borgo, eccetera, e casa Museo di Giacomo Bove a Maranzane, questo ve lo consiglio vivamente, perché Giacomo Bove è esploratore, è nato a Maranzana, e Maranzane, ne parleremo più avanti alle foto, eccetera, ho visitato, è bellissimo, quindi andateci, è bellissimo, che a parte la casa della casa Museo, Maranzane è considerato un paese di poche anime, poco più di 300 anime, il paese dei babaci, babaccio in singolare, babaci sono i pupazzi, pupazzi di pezze, gli spaventapasseri, che non si trovano nei campi, ma si trovano sparsi in tutto, i paesi sono stati disposti in maniera da essere come se fossero vivi, quindi quelli al bar, quelli che giocano una carta, quelli che guardano la tv, quelli che portano la carriola con il grano, insomma, in diverse pose, che stanno a rappresentare diversi luoghi di appartenenza, diverse cose che vogliono rappresentare. Bene, io per adesso mi fermo qui, nel prossimo video andremo a vedere le altre province, io come al solito spero di avervi regalato delle belle emozioni, anche se comunque le avrete ancora più belle andando a visitare questi luoghi, se il video vi è piaciuto un like è gradito, vi siete iscritti, iscrivetevi, perché così commentiamo e ci divertiamo, magari escono fuori diversi commenti, sai, di qua, di là, ho scoperto, ho visto di qua, quindi facciamo un po' di commenti, così da divertirci, insomma, ecco, io come al solito vi saluto con un abbraccio affettuoso e ci vediamo al prossimo video, non mancate, ciao! Ciao!